Un viaggio doloroso e difficile, ma necessario. Una ricerca indietro nel tempo, iniziata anche grazie alla lettura dei libri di Primo Levi, che quattro anni fa a Roma ha preso forma di progetto musicale, diventando Songs for Eternity. Utelemper ricorda così, davanti al pubblico del Polo del Novecento, la nascita del suo spettacolo, andato in scena il 31 gennaio e il primo febbraio al Conservatorio di Torino e al Teatro Toselli di Cuneo. Musica e canzoni scritte nei ghetti e nei campi di concentramento, da musicisti ebrei vittime della deportazione nazista. L'artista, tedesca di nascita e new yorkesi di adozione, racconta, insieme al critico musicale del quotidiano La Stampa, Sandro Cappelletto, la difficoltà di un'intera generazione di suoi connazionali a confrontarsi con la sofferenza e la pena causate da una nazione colta e illuminata, ma sedotta al punto da vendere la propria anima. E della necessità di non dimenticare quel che è stato, a portare la lempera a intraprendere la sua personale ricerca della musica come risorsa e speranza, capace di tenere vivo il senso di appartenenza a una comunità e continuare a sentirsi persone, soprattutto nell'inferno straniante dei campi di concentramento. La musica cantata nei lager aveva un'importanza fondamentale, era ribadire una propria identità, delle proprie radici. Comunque, al fondo del dolore, al fondo della sofferenza, il barlume di una speranza, anche soltanto che noi ricordiamo oggi quello che è stato, perché non accada ancora. Questa speranza ci è stata affidata da quelle vittime e noi oggi la testimoniamo. Grazie a una grande artista che attraverso il lavoro di ricerca è potuta venire in contatto con questi testi, con queste canzoni e ci li ripropone oggi, 70 anni dopo quei fatti trementi. L'incontro con Utelemper, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con il Polo del Novecento, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e il Goethe Institute, rientra nel calendario delle manifestazioni organizzate proprio dal Polo del Novecento per la giornata della memoria. Alla fine, nonostante che tutti gli anni si ripeta, ci sia una liturgia civile su queste cose, scopriamo tanti ragazzi che si stupiscono di vedere delle cose che noi che l'abbiamo già ripetuto tante volte ci sembrano naturali e ovvie. E poi serve la puntualizzazione e il collegamento sull'oggi, perché ci sono veramente delle cose simili alla Shoah. Avere questa sensibilità è un qualcosa che lega il lo ieri all'oggi e ci rende più vigili.